Il mercato settimanale di Corato non sarà spostato nel centro cittadino, ma rimarrà nella sua collocazione provvisoria nella periferia a nord della città. A nulla è valsa la petizione, sottoscritta da oltre 1200 cittadini, consegnata già ad aprile, con cui si chiedeva di far ritornare gli stalli lungo il corso cittadino, con l'obiettivo di rivitalizzare la zona centrale, ormai sempre più sofferente e povere le attività commerciali. La petizione è stata respinta dal Consiglio Comunale nel corso della seduta di ieri. La maggioranza di centrodestra ha votato compatta per lasciare il mercato su Via Santa Faustina e strade adiacenti. Quello che è emerso nel corso del dibattito, comunque, è la necessità di trovare una sistemazione definitiva del mercato, predisponendo nell'ambito del Piano Urbanistico Generale una zona destinata al mercato, dotata di servizi igienici e di tutti i requisiti di sicurezza.